Giunta provinciale di Agrigento. L'esecutivo, guidato dal presidente Dorsi, rientra nei parametri politici con la rimodulazione che cambia i nomi dei due precedenti assessori tecnici. Come annunciato nei giorni scorsi, questa mattina il presidente della provincia regionale di Agrigento, Eugenio Dorsi, con propria determina, ha revocato la nomina dell'assessore Giovanni Nocera, mentre Nicoletta Marchese aveva rassegnato le sue dimissioni. Al loro posto, Dorsi ha nominato assessore allo sviluppo economico Paolo Ferrara, a cui ha anche affidato la vicepresidenza della provincia. Ad Ignazio Amato, vicino alla posizione del Fli, è stata assegnata la delica all'edilizia scolastica e pubblica istruzione. Il plenum della Giunta provinciale è quindi composto da Angelo Biondi, Domenico Alaimo, Calogero Crapanzano, Calogero Volpe, Paolo Ferrara, Mariano Ragusa, Maria Teresa Lamarca, Felice Lofaso, Giuseppe Montana, Vito Terrana ed Ignazio Amato.